Malore al GF VIP, Cristina Quarantas viene in diretta. Le sue condizioni. Cristina Quarantas viene in diretta. I compagni allarmati invocano l'aiuto degli autori del GF VIP. Momenti di panico nella casa del grande fratello VIP7 per un improvviso malore che ha colpito Cristina Quaranta. La concorrente è infatti svenuta ed è stata trovata a terra nei pressi della zona bagno. Con alcune coinquiline che hanno subito dato l'allarme implorando l'aiuto della produzione. Al momento non sono note le sue condizioni di salute, ma il video di quei concitati istanti è subito circolato in rete e ha preoccupato e non poco i telespettatori. Cristina Quaranta, improvviso malore al GF VIP7. Un tranquillo pomeriggio nella casa del grande fratello VIP7 improvvisamente interrotto da momenti di panico. Ad allarmare i concorrenti del reality è stata infatti Cristina Quaranta. Colpita da malore e trovata riversa a terra nei pressi della zona bagno. I video della diretta H24 della trasmissione erano inizialmente puntati su una tranquilla chiacchierata in cucina tra Antonella Fiordelisi ed Elenoir Ferruzzi quando Da lontano, si sono improvvisamente sentite le urla di altre coinquiline. Nell'inquadratura delle telecamere installate presso la zona bagno, si nota l'ex ragazza di Nonella Rai riversa a terra. Priva di sensi. Carolina Marconi e le coinquiline che erano nei paraggi in quel momento sono accorse ad aiutarla, mentre gridavano aiuto aiuto richiamando l'attenzione degli altri. Per favore tiratela su, fate le aria alle indicazioni fornite da una delle concorrenti mentre gli altri cercavano di aiutarla. E, tra le urla, è stato lanciato anche un messaggio affinché gli autori intervenissero al più presto. Grande fratello aiuto! La regia ha successivamente cambiato l'inquadratura per non mostrare la scena, spostandola sulla cucina deserta e disattivando l'audio. Al momento le condizioni di salute di Cristina 40 non sono note ma la concorrente è sottoposta ad accertamenti medici e a tutti gli accertamenti del caso. GF VIP 7 La paura dopo le emozioni della puntata di ieri Attimi di panico nella casa del grande fratello VIP 7, in attesa di aggiornamenti sullo stato di salute di Cristina 40 Che ha fatto preoccupare e non poco i suoi compagni di viaggio Un imprevisto avvenuto il giorno dopo la puntata serale, che ha visto infuocati scontri e momenti davvero emozionanti Eleonore Ferruzzi ha dovuto fare i conti con la fidanzata di Luca Salatino, Soraya Ceruti, venuta per un confronto a tu per tu con la concorrente L'invito è quello di non fantasticare su un'improbabile storia d'amore con l'ex tronista Essendo attualmente fidanzato Spazio poi alle dolcissime lacrime di Ginevra Lamborghini che, il giorno dopo il suo compleanno festeggiato anche nella casa Ha ricevuto un video messaggio regalo da parte del papà Gelo, invece, con la sorella Elettra Anni di silenzi ed incomprensioni sono serviti solo ad allontanarle Ma Ginevra ora vorrebbe riallacciare un rapporto con lei Arriverà il momento di un atteso confronto tra le due sorelle Unite da un legame di sangue ma ora profondamente distanti L'appuntamento con la prossima puntata del Grande Fratello VIP 7 è fissato per giovedì sera In cui scopriremo anche chi sarà il primo immune di questa edizione Al televoto ci sono già Ele Nikita Antonella Marco Edoardo e Daniele Come sta Cristina 40? L'ultimo aggiornamento Dopo la notizia del malore di Cristina 40 Il Grande Fratello VIP 7 ha voluto rassicurare il pubblico circa le sue condizioni di salute Con un messaggio condiviso su Twitter Il programma ha spiegato Cristina 40 ha avuto un leggero malore Dopo essere stata soccorsa e visitata dallo staff medico È rientrata nella casa di Grande Fratello VIP Sospiro di sollievo Dunque, dopo i soccorsi chiamati dai coinquilini La concorrente è stata sottoposta ad accertamenti medici e ora è pienamente recuperata Può così ritornare in gioco a tutti gli effetti